Mi riprometto di approfondire un tema che mi è stato suggerito, cioè che cos'è il fascicolo sanitario elettronico? Fascicolo sanitario elettronico, questo strumento digitale che raccoglie, raccoglierebbe, raccoglie la storia clinica e sanitaria di ognuno di noi, i dati pregressi eccetera eccetera. E quindi che cosa contiene? Contiene le esenzioni per il reddito, le patologie, i verbali di pronto soccorso, le lettere di dimissioni dai pronto soccorsi in caso di ricoveri, il profilo sanitario sintetico, le prescrizioni specialistiche, le cartelle cliniche ma anche le vaccinazioni, i dati delle tessere per i portatori di impianto, le lettere di invito per screening. Insomma è a tutti gli effetti un fascicolo sanitario elettronico che ti caratterizza probabilmente. Riassume tutta la tua storia clinica accertata, quindi tutti i tuoi dati sensibili sul tema, ovviamente oggi se ne parla perché entro il 30 giugno è possibile scegliere di non far comparire all'interno di questo fascicolo i dati antecedenti al 2020. Lo sappiamo? Gli italiani lo sanno? Gli italiani oggi, quelli che leggono i giornali, lo apprendono dai giornali, ma che in realtà attraverso il Ministero della Sanità, esatto, noi non abbiamo l'obbligo di comprare o di leggere un giornale, non è arrivata ad oggi una notifica da parte del Ministero della Salute. No, ma dico, ma non è che una volta stabilito questo, diciamo, il fascicolo sanitario va oltre, cioè per dire, fammi vedere, tu che c'hai, allora tu non sei, faccio un esempio, tu non sei vaccinato allora non puoi accedere a questo, a questo, a questo, a questo, no? Dico perché sulla storia dei vaccini abbiamo visto che veramente ce ne hanno combinate veramente di tutti i colori, quindi non lo so, allora, a prima chitto, dunque, da una parte mi sembra una cosa importante, dall'altra mi mette un po' paura, te lo giuro, così, però non ho approfondito, a voi che vi sembra? Ma no, ma lì ci sono quelli, vengono trattati come, c'è tutto un circuito di protezione, sono dati che sono protetti proprio perché fanno parte di un circuito particolare che è quello dei dati supersensibili, per cui nessuno, se non il soggetto di dolare o comunque chi ne deve operare per ragioni proprio applicative, no? Il sanitario piuttosto che, ma in quel momento, cioè legato all'episodio, alla, a quella che è la circostanza che pone, voglio dire, nella necessità il sanitario di operare nell'interesse del paziente, ma non sono dati spendibili, non sono dati divulgabili, su questo potete stare tranquilli, non è questo. Il problema è un altro, Ilario, perché questa è l'innovazione tecnologica, si chiamano big data, ma chi è che produce questi big data? Sono, voglio dire, le strutture del sistema sanitario che poi è regionale, perché il sistema nazionale di fatto è la somma dei sistemi sanitari. Ecco, all'interno di questi sistemi tutta questa attività istruttoria di raccolta dati deve essere fatta da questi plessi sanitari che molto spesso sono polverizzati ulteriormente sul territorio, ecco, quindi ci sono risorse umane pronte ad assecondare il compito, ci sono i software che comunque no e le risorse umane preparate ad utilizzarli. C'è personale sufficiente ad effettuare questa attività istruttoria? Ci sono risorse finanziarie già impegnate per questo tipo di attività? Si inizierà con un campione di soggetti oppure si farà, voglio dire, riguarderà tutti i soggetti, ma con quale strategia, con quale cronoprogramma? Le regioni sono tutte pronte e che significa che altrimenti avremo un fascicolo che sarà, voglio dire, a macchia di leopardo, per alcuni versi completamente esaustivo, con una certificazione puntuale e per altri assolutamente assente, per cui tu comunque avrai sempre un'immagine parziale del soggetto. L'informatica, l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale, per quanto ti possa aiutare, viene sempre decisa dall'uomo e quindi anche tutte le operazioni di acquisizione dei dati, la pubblica amministrazione deve essere messa nelle condizioni di poterli recepire, lavorare, censire e poi, voglio dire, assembrare, categorizzarli, fare in modo che diventano, voglio dire, ai fini di un'istruttoria, facilmente consultabili e che diano, voglio dire, una immagine, una radiografia esaustiva di tutta quella che è la storia clinica di quel soggetto. Comunque, consultando la pagina del Garante per la Protezione dei Dati Personali, ha la pagina relativa alle FAQ, quindi alle domande più frequenti, si trova in realtà anche la possibilità per il cittadino in qualsiasi momento di scegliere se oscurare parte delle informazioni, quindi quelle informazioni sono accessibili soltanto all'interessato e a chi le ha prodotte, quindi al professionista sanitario che le ha prodotte e chi non può vederle non ha neanche notizia del fatto che esistano dei dati che sono stati oscurati, quindi non si può neanche percepire il fatto che si sia stata fatta una scelta di privacy da parte del cittadino. Se così rimane, in realtà la privacy comunque è fatta salva. Questa è la cosiddetta doppia tutela, ecco perché si chiamano non dati sensibili ma super sensibili. il fatto che tu non possa divulgarli, questo è per tutti e sarebbero dati sensibili. Sono super sensibili perché tu puoi anche oscurarli, cioè tu puoi anche non farli vedere a nessuno, anche a coloro che sarebbero deputati ad assisterti qualora tu avessi necessità di un intervento sanitario. Si serve sempre il consenso dell'interessato ogni singola volta, non dato una tantum che continua a valere per... Diciamo che un ingegnere che conosce molto bene la materia mi dice che non c'è questo personale specializzato per l'immissione di questi dati, caro profe. Quello è tutto un altro paio di mani. Quello dipende dalla buona amministrazione, quando parliamo sempre noi di pianificazione, di programmazione, di progettazione, ecco questo dipende, su questo si costruisce la buona amministrazione.